Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove per un incidente avvenuto al chilometro 53 si registrano 3 chilometri di coda tra Capannori e Alto Pascio in direzione Firenze. In Fipili invece a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano 2 chilometri di coda tra Empoli Ovest ed Empoli Est in direzione Firenze. Coda a tratti invece a causa del traffico intenso tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Livorno. Passiamo sulla 1 dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Città di Firenze fino al 10 settembre per lavori di rinnovo della rete idrica in via bolognese tra il civico 102B e l'incrocio con via di Montughi, previste chiusure, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!